Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo appuntamento inaspettato probabilmente, possiamo dire così appuntamento speciale, serale di questo lunedì perché oggettivamente lo sapevamo è la settimana in cui le cose iniziano ad accadere, la settimana in cui le cose iniziano a succedere stanno iniziando a muoversi determinate pedine all'interno del puzzle, dell'effetto domino che sarà il calcio mercato non solo da Juventus ma anche di tutte le altre squadre in Serie A, in Europa e nel mondo e quindi ecco che arrivano delle informazioni abbastanza croccanti perché come riportato da ilbianconero.com e citando la fonte The Athletic, Szczesny avrebbe raggiunto un principio d'accordo con l'Al Nasr, ne parlavamo questa mattina, il club nel quale gioca Cristiano Ronaldo quindi Szczesny che andrebbe a ritrovare un suo ex compagno di squadra con il quale sicuramente ha passato ottimi momenti tra Scudetti, Coppa Italia, partite di Champions e robe del genere si parla di una cifra molto elevata per l'ingaggio di Wojtek Szczesny, si parla di 19 milioni di euro a stagione si parla anche di una Juventus che però non andrebbe a cedere gratis il calciatore e che vorrebbe ricavare qualcosina dal cartellino si parla comunque di cifre relativamente basse ma anche se dovessero essere 5, 6, 7, 8 milioni per la Juventus sarebbe tutto di guadagnato da dove partiamo? partiamo dal presupposto che un po' ce l'aspettavamo, eravamo arrivati a capire che Giuntoli voleva fare questo tipo di operazione che la volontà era quella di tenere Perin come secondo portiere con Di Gregorio come il primo, poi parleremo anche di Di Gregorio perché ci sono delle novità anche qui Szczesny è stato credo un professionista esemplare per la Juve, mi dispiace tantissimo non averlo salutato a dovere come tifoseria perché in occasione dell'ultima partita di quest'anno hanno giocato sia Perin che Pinsoglio ma non Szczesny un po' il mondo ribaltato di fronte a quello che è stato il primo portiere della Juve per tanti anni di fronte a quello che rimarrà per sempre nella storia perché l'erede di Gigi Buffon sarà sempre solo Teccone Szczesny ed è stato un portiere che non ci ha fatto assolutamente rimpiangere una leggenda come Gigi Gione una splendida persona come Gigi Gione e una splendida persona come Tec sperando che Di Gregorio possa seguire questo trend di portieri bianconeri grandi in campo e grandi fuori dal campo sono cifre se confermate quelle dell'Al Nasr difficili da contrastare, difficili da rifiutare sono campionati che dal punto di vista sportivo, dal punto di vista allenante, dal punto di vista di stimolo secondo me ti regalano poco e niente ma di questo avevo già parlato lo scorso anno sono però anche campionati che nel giro di uno o due stagioni ti permettono di mettere da parte tanti tantissimi soldini e di fare una vita con un po' meno pressione anche dal punto di vista sportivo poi non so se sarà l'ultima tappa della carriera di Szczesny, sappiamo che i portieri possono durare tanti anni in più rispetto ai giocatori di movimento secondo me Szczesny avrà volontà di fare ancora un'altra tappa magari non in una grande lega o magari sì in Premier League ma magari anche in MLS la butto lì qualcosa di simile per andare a vedere anche posti di un certo tipo quindi sembra andare tutto nella direzione di un Szczesny che è destinato a uscire dalla Juventus per far spazio, far posto a Di Gregorio otto anni di differenza tra i due quindi questo spiega alla perfezione il perché la Juventus in questo momento vorrebbe cercare di fare questa uscita io non so quanto Szczesny fosse contento di lasciare la Juve poi magari è contentissimo di fare questa esperienza alla Nasr è contentissimo di mettersi in tasca a questi soldini che, ripeto, secondo me sono difficilmente rifiutabili sono delle cifre che mettono d'accordo un po' chiunque credo che sia necessario uscire un po' da questa sorta di ipocrisia di quando si discute di cifre così elevate ne parlavamo anche stamattina, abbiamo parlato di Ancelotti, del Real Madrid abbiamo parlato di Calafiori, abbiamo parlato dei soldi nel calcio i soldi nel calcio ragazzi sono la base e qui non stiamo parlando di pizza ai fichi stiamo parlando di cifre che cambiano la vita delle persone io non potrò neanche nemmeno mai avvicinarmi a delle cifre del genere quindi non ho idea di cosa si possa anche solo pensare nel ricevere un'offerta di questo tipo non so quanto tempo ci metterei a pensare, a ragionare, ad accettare probabilmente sarebbe nell'ordine di qualche ora queste sono cifre oggettivamente rinunciabili oggettivamente rinunciabili anche davvero solo per fare uno o due stagioni, una stagione e mezza come fai a dir di no a tutti quei soldi? io non so neanche pensare a come possano essere fatti 18 milioni di euro cioè provo a immaginarmeli e non capisco non capisco quindi complimenti Tech, grazie a Tech, ciao Tech e ne parleremo magari un po' meglio se e quando usciranno i comunicati ufficiali però ci si sta muovendo in questa direzione e questa direzione è confermata anche dal fatto che Galliani oggi ha confermato che Di Gregorio lascerà il Monza quest'estate però Fabrizio Romano aggiunge un pezzettino del puzzle che ci mancava perché è vero che ha già fatto tutto 18 milioni più due di bonus per firmare e mettere la firma sul portiere del Monza ma Fabrizio Romano ci informa che sarà un prestito con obbligo di riscatto questo è un po' anche una cosa che mi solleva sì mi solleva mi dà un po' di sollievo perché avevamo anche c'eravamo un po' interrogati sulla necessità di fare già un portiere in questa sessione di mercato la risposta era stiamo cercando di programmare di metterci avanti nei confronti del 25 quando scadranno tutti i portieri che abbiamo in rosa ecco il fatto che non si vada a mettere mano già oggi al tesoretto o comunque a quella percentuale di soldi messe da parte per cercare di andare sul mercato mi fa tirare davvero un sospiro di sollievo perché significa che la Juventus non va a strozzarsi con quei 18 più due ma va a cercare di dilazionarli è un po' quello che vi dicevo l'altro giorno perché si continua a fare acquisti in Italia per questi motivi qua ci si dà sempre una mano i club alla fine per quanto possano essere rivali sul campo dietro le scrivanie sono tutti amici anche se ci sono delle antipatie magari tra le persone che vanno a trattare quando si tratta di dover avere tra virgolette i favori dal punto di vista fiscale che ricadano sulla propria squadra si diventa tutti amici e torniamo al discorso dei soldi banalmente si torna sempre al discorso dei soldi e secondo me man mano che andremo avanti ad analizzare le stagioni il calcio mercato gli impegni, le competizioni non potremo fare altro che parare questa roba qui perché ribadisco un ingresso prepotente come quello che è stato l'Arabia Saudita lo scorso anno volenti o nolenti può piacerci o non può piacerci ma ha cambiato il calcio io che sono anche molto romantico nella mia visione di calcio devo alzare le mani e arrendermi perché capisco che davvero ragionare dal punto di vista del romanticismo dell'affetto della fede si infrange come un'onda su uno scoglio di fronte a dei soldi così elevati come quelli che possono offrire in determinati campionati quindi noi dobbiamo noi inteso come movimento Italia dobbiamo stare a guardare e darci una mano come possiamo quindi sarà impossibile vedere delle squadre o la Juventus stessa smettere di acquistare in Italia magari con delle formule un po' fantasiosi come questa come quella di Frattese l'anno scorso robe di questo tipo qua ma non è l'unico movimento di mercato citato da Fabrizio Romano nel pomeriggio perché avevamo già parlato di Douglas Lewis in bianco-nero è un giocatore molto interessante che potrebbe effettivamente arrivare alla Juve dalla Stonevilla si era parlato di uno scambio con McKennie sappiamo che erano due giocatori che potevano fare il percorso inverso McKennie scadenza 2025 Douglas Lewis scadenza 2026 ma si aggiunge un tassello del puzzle perché un altro dei giocatori che potrebbe rientrare nella trattativa magari in più magari solo lui magari separati magari prima uno poi l'altro è Eiling Junior Eiling che è un altro di quei giocatori che ha scadenza 2025 quindi non mi sorprende vederlo inserito all'interno delle trattative Eiling che è un giocatore di nazionalità inglese che ci hanno sempre detto un po' da mesi ormai forse anche da un annetto abbondante che è un giocatore con tanto mercato in patria quindi in Premier League un giocatore che secondo me è anche molto adatto al campionato di Premier League ma io ribadisco continuo a dire che per me è un giocatore molto idoneo come profilo per Tiago Motta tant'è che l'anno scorso lo voleva al Bologna mi dispiacerebbe cederlo sono sincero proverei più che altro a rinnovarlo perché per me può essere un giocatore non negli 11 ma può essere davvero quell'arma quella carta da inserire la partita in corso che può mettere in fico tagli avversari non l'abbiamo sempre vista esterno nel 3-5-2 non ha mai brillato oggettivamente Eiling se non in occasione delle sue prime apparizioni con la Juve dove sembrava avere un argento vivo addosso anche di un certo livello però per me Eiling è un giocatore offensivo mi piacerebbe tanto vederlo nel 4-2-3-1 nel 4-3-3 è un giocatore che secondo me può aiutare anche in fase difensiva può essere una sorta di equilibratore come poteva essere Sale Makers nel Bologna e Tiago Motto può essere davvero quel giocatore che entra e spacca le partite io prima di cedere Eiling ci pensare due volte poi è ovvio che stiamo parlando della possibilità di arrivare a un centrocampista che giunto gli sembra aver cerchiato la resta della priorità come Douglas Luiz quindi ovviamente nel caso non ci sono problemi perché l'importante è cercare di migliorarla questa Juventus cercare di incastrare alcune trattative anche in maniera intelligente e sperando che che poi alla fine la rosa possa essere più forte possa essere più competitiva possa essere anche più divertente un po' di giocatori da scoprire tutti insieme per cercare di partita dopo partita aggiungere un pezzettino al puzzle di quello che sarà un anno molto lungo causa anche mondiale per club e quindi ragazzi questo è quanto fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti la domanda delle domande è una e una sola voi rifiutereste mai 18 milioni di euro a stagione per andare a giocare in Arabia? io difficilmente parto io e parto con la risposta secondo me più corretta alla prossima